Ormai sei un'affezioneta dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, tra l'altro è già il terzo anno che ci raggiungi qua. Sì, ho fatto il conto. Quest'anno però non gioco, ho deciso di non fare danni. Vista la mia grande preparazione nel padel, ho deciso di dare comunque il mio contributo partecipando, essendoci, ma di non fare danni sul campo. Siamo vicinissime ai 3 milioni di euro raccolti. Questa è la dimostrazione che l'unione fa la forza e quindi noi continueremo ad esserci ogni anno perché la causa è importantissima e quindi mi fa piacere esserci anche quest'anno, anche senza il completino sportivo. Ma non te lo squagli adesso, stai con noi. No, non me la squaglio, resto qui tutta la sera.